Buonasera a tutti ragazzi, amici del canale YouTube e a tutti appassionati di campani come me. Oggi ci troviamo alla chiesa di Saropoldo e San Massimiliano Maria Colbe a Cinto Resi. Abbiamo un concerto di quattro campane. Adesso ascoltiamo sempre le venti in punto la melodia Ave Maria di Lurde. Quindi nel frantano posso vedere questo è il campanone, questa è la mezzana, questa è la suonata esana, questa è la piccolina. Adesso ascoltiamo il battiore sul campanone e poi la melodia Ave Maria di Lurde. Quindi a presto da Enzo Aldo, Campanaro, Lugnotto e buon ascolto a tutti. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!